Pronta a partire, ok? E' ora di vedere se tutto l'addestramento ha dato i suoi feriti. Rampino, carico in posizione. Ecco il campione. Seguitemi per vincere. Questo potrebbe essere un buon posto per atterrare. Trattenete il respiro, se dovete proprio respirare. Ho ricevuto proprio il piano. Stanno sparando. Ho bisogno di un medico. Apro il fuoco. Nemico fuori gioco. Mi stanno sparando. Attenzione. Prima di... Mi spara, amici. Sto ricaricando. Non lo conoscerai. Tanta stima. Ho stabilito un contatto con il nemico. Attivo lo scudo. Ce la farai. Il tuo aiuto è molto utile. Riparazioni in corso. Ci penso io. Scudo attivo. Grazie per guardarmi le spalle. Non essere timido, saluta. Sto ricaricando gli scudi. Sto ricaricando gli scudi. Sto ricaricando gli scudi. Grazie. Chiave trovata. La prendo io. Un minuto. L'anello non è lontano. Campione eliminato. Guardate. Campione fuori gioco. 45 secondi. L'anello è vicino. L'anello non è lontano. 30 secondi. 10 secondi. L'anello è abbastanza vicino. Grazie. L'anello si sta muovendo. L'anello si sta muovendo. Capsula assistenza in arrivo. Quadra eliminata. Nessuna pietà. Sembra che ci sia una capsula assistenza in arrivo. Contiene grandi cose. Abbiamo un nuovo leader uccisioni. Abbiamo un nuovo leader uccisioni. Occhio al nuovo leader uccisioni, amici. Occhio al nuovo leader uccisioni. Versaglio laggiù. Versaglio laggiù. Preparati. È l'ora della zip line. Nemico individuato. Granata termite lanciata. Lancio una granata termite. Fuoco. Mi stanno sparando. Teniamo d'occhio il nuovo leader uccisione. Granata frammentazione. Sto ricaricando. Lancio granata termite in corso. Faccio una pauta. Devo darmi la sistemata. Mi sparano, amici. Sto ricaricando. Ho stato abbattuto. Ho stato abbattuto. Un nemico abbattuto. La quadra è eliminata. Nessuna piedra. Ho stabilito un contatto con il nemico. Ostile vicino. Ostile vicino. Ostile proprio qui. Ci penso io. Scudo attivo. Grazie. Sto ricaricando gli scudi. Ringraziami quando vinciamo. Hai sentito? Mi sto riparando. Lanello di scuola. Sono colpita. Sono a terra. I nemici mi stanno sparando. Mi servono scudi. Granata termite. Un salto. Sono sotto tiro. Nemico. Lancio una granata a frammentazione. Sto ricaricando. Nemico ucciso. Faccio una pausa. Devo darmi una sistemata. Mi sparano, amici. Uso il romino. Uso il romino. Uso il romino. Uso il romino. Un minuto. Un minuto. Un minuto. L'anello è lontano. Andiamo da questa parte. L'anello è vicino. 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 L'anello. Restano dieci secondi. Vedo che l'anello si sta muovendo sulla mappa. Nemico, laggiù Lancio una stella ARC Capsula assistenza Capito Capsula assistenza ne arrivo Di solito portano qualcosa di raro Mi stanno sparando Apro il fuoco Sto ricaricando Nemico abbattuto Sto ricaricando Sto ricaricando Uso un kit medico, un attimo Round 3 Inizia il controllo Mi sono individuata Mi stanno sparando Mi sparano amici Cascudi in corso Sono a terra Ho bisogno di un medico Mi sto riparando Attivo lo scudo Andrà tutto bene Mi sono individuata Mi stanno sparando Sto ricaricando Mi sto curando No, mi hanno individuata Mi stanno sparando Sono stato abbattuto Sto ricaricando Abbiamo eliminato il leader uccisioni Bel lavoro Ci penso io Scudo attivo Un minuto L'anello è vita Grazie Ricarica scudi In corso Non c'è di che Ora muovete Sparano amici 45 secondi L'anello è vicino Nemico E' un minuto In corso Nemico fuori gioco Bella uccisione Grande Restano 30 secondi Mi stanno sparando Mi sto riparando Ostile vicino Sono a terra 10 secondi L'anello è lì davanti Andiamo da questa parte Non preoccupatevi Ho preso il banner Di uno dei nostri Ho preso il banner Di uno dei nostri Ho eliminato tutta la squadra Due squadre nemiche rimaste Drone di guarigione Conto subito Ricarico gli scudi Round 4 Inizio controlla Rovescio Anello Ricarico gli scudi Mi stanno sparando L'anello è vicino Manca solo un minuto È rimasta solo Un'altra squadra 45 secondi Alla chiusura Dell'anello È vicino Facile 30 secondi Alla chiusura E vai Alla chiusura Alla chiusura Alla chiusura Per fortuna Sono dentro l'anello Per fortuna sono dentro l'anello Arrivata 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 Sono un sottotiro Round 5 Inizio controlla Rovescia An'ello Sto ricaricando Gli scudi Attacco Aire Un minuto alla chiusura dell'anello. Abbiamo i nostri campioni Apex. Un minuto alla chiusura dell'anello.